Entriamo nel merito di una figura per noi italiani interessantissima, che è quella di Leonardo. Il prossimo anno, nel 2019, ci sarà la ricorrenza del cinquecentesimo anniversario della morte e ne sentiremo parlare per un anno intero. Ma oggi c'è l'occasione davvero unica per noi di avere qui Mario Taddei, che è davvero in assoluto considerato, anche e soprattutto a livello internazionale, uno dei massimi studiosi e ricercatori sulle opere di Leonardo, sul suo pensiero e soprattutto sulla capacità che ha avuto nel corso di questi anni, dedicando anima e corpo alle riflessioni e agli approfondimenti sulle macchine di Leonardo, all'arte e alla sua figura, beh, ha avuto la capacità di riscoprire Leonardo perché ha applicato l'informatica e la virtualizzazione in tridimensione dei disegni per capire come Leonardo pensava e non solo che cosa faceva. Ed è per noi l'occasione di vedere attraverso questa testimonianza come già in epoca rinascimentale nella città ideale le acque reflue venivano distinte dalle acque pulite, qual era il pensiero di Leonardo e poi Mario ci farà vedere e capire che tante cose che oggi abbiamo come i droni o certe macchine acquatiche erano già state pensate e intuite dal genio che abbiamo avuto. Ma ho parlato fin troppo, do subito la parola a Mario. Mario Taddeo, accogliamolo con un applauso e che è chiamato poi a concludere questa ottava edizione del festival. Buongiorno a tutti, cominciamo da una cosa strana. Avete mai visto il codice da Vinci? Com'è? Com'è fatto? Il codice da Vinci com'è fatto? Voi avete visto il film? Il vero codice da Vinci l'avete mai visto? Eccolo qua. Giusto, uno dei. È il codice da Vinci, poi ce ne sono altri 20 che oggi ce ne sono sopravvissuti. Questo è stato il primo, il primo codice che lui ha realizzato a Milano, città industriale, era la New York del 1500. Lui è arrivato a Milano, poi vi racconterò per quale motivo, e ha cominciato a realizzare il primo codice da Vinci. Siccome ce ne sono tanti, vi faccio vedere anche l'ultimo codice da Vinci, questo, uno degli ultimi. Oggi si chiama codice Hammer, ce l'ha a Bill Gates. L'ha pagato e forse non lo venderà mai. L'oggetto forse più costoso della storia, più del Salvador Mundi che è stato venduto perché è di Bill Gates, figuratevi cosa vuol dire comprarglielo. Vi racconterò alcune cose su Leonardo. Cominciamo a vedere un po' se posso vedere le immagini, se ho difficoltà poi mi sposto sul pc. Allora, intanto io mi occupo di Leonardo da Vinci da molti anni, lavoro al centro studi Leonardo 3, poi vi inviterò, vi farò vedere cosa fare a Milano, a vedere la mostra su Leonardo da Vinci che abbiamo in piazza Scala, il mondo di Leonardo, Leonardo 3, dove troverete centinaia di cose che vi farò vedere, sia in formato digitale e multimediale, sia realizzate dal vero. Ho realizzato questo poster che ci sono alcune curiosità molto interessanti da vedere, questo per esempio, uno dei tantissimi disegni sull'anatomia di Leonardo da Vinci, rappresenta, lo potete ben vedere, un braccio e le vene che portano il sangue da tutte le parti di quel braccio, che è un essere vivente, è un organismo vivente. Qui Leonardo non è artista, qui Leonardo è scienziato, studia l'anatomia a un livello che prima di lui pochissime avevano fatto, non solo aveva studiato gli antichi a Vicenna, ma aveva capito che per capire le cose bisogna toccarle, le aveva veramente tagliate queste vene per poterle studiare in modo così incredibilmente perfetto. Guardate però quest'altra immagine, questa è la stessa mano, la vedete anche voi in trasparenza le vostre vene, ma guardate quest'altro disegno, questo è invece l'Arno disegnato da Google Earth, no, da Leonardo da Vinci, oggi noi siamo abituati a vedere queste immagini, beh l'Arno dall'alto, ma nel 1500 non c'erano i satelliti, come ha fatto a fare un disegno, una mappa perfetta della visione dall'alto e non c'erano neanche gli aeroplani? C'era l'elicottero di Leonardo, forse sì, dopo lo vediamo, ma era difficile immaginare una cosa del genere, ma la cosa più incredibile, guardate queste due immagini come si assomigliano, ci sono molti ragazzi, voi avete mai visto il film Final Fantasy? Avatar l'avete visto? Ottimo! Alla fine del film Avatar cos'è che spiega? Che c'è la teoria di Gaia, per cui i pianeti vengono considerati dall'alto, quindi da fuori, degli organismi viventi in fantascienza, in Avatar, ma sulla Terra chi studia queste cose è convinto che la pianeta Terra è un grandissimo organismo vivente e noi siamo i suoi batteri, siamo delle cose insignificanti, gli stiamo rovinando la vita come un'infezione, siamo il virus, ma la Terra è un organismo. La cosa incredibile è che Leonardo scrive che le vene della Terra sono i fiumi, con la stessa funzione, cioè lui aveva già capito che comparando le stesse figure e le stesse funzioni, perché qui c'è un fluido che parte, grosso, si deve dividere e porta vita a tutti i campi, alla Terra e lui considerava le vene del corpo umano come le vene della Terra sono i fiumi. Questa comparazione è meravigliosa, ci vorrebbero due ore per raccontarvi tutte le cose su Leonardo Cartografo, prossima volta. Guardate quest'altro bellissimo disegno, sempre dall'alto, è sempre, si tratta di un dell'Arno, lui studiava le dighe perché è brutto dirlo ma anche bello, lui si occupava soprattutto di ingegneria militare, quindi quando faceva una diga era anche per bloccare l'acqua a una città, voleva dire conquistarla. Senza entrare in merito, guardate invece la bellezza del disegno, come lui riesce a ottenere quell'idea di vortice dell'acqua che una volta entrata in quel canale deve diventare una specie di vortice, quindi vuol dire che lui non solo vedeva dall'alto, capiva le funzioni, ma riusciva a rappresentare in questo modo incredibilmente per noi artistico, meraviglioso, una cosa che prima era disegnato male, diciamoci la verità, gli ingegneri rinascimentari prima di Leonardo disegnavano male e non venivano considerati degli artisti, ecco perché Leonardo è superiore, perché ha unito le due cose. Il trucco che lui ha teorizzato, guardatelo bene, è un trucco geometrico, lui studiava la geometria, quello non è altro che una specie di, lo vedete anche voi, girandola, chiocciola, è una spirale fatta con il tratto di blu, man mano che si allarga saltava, c'è un altro trattino, saltava, è un disegnino che voi siete capaci di fare, ma se si analizzano in questo modo si capisce che alla fine i trucchi che lui utilizzava nel disegnare poi alla fine portavano questi capolavori, perché visto dall'alto poi è una meraviglia. Qui dentro c'è tutto, c'è architettura, disegno, studio del flusso dell'acqua, come si muove, dove va e sono cose che non è neanche difficile da vedere, perché quel flusso che vedete voi che esteticamente sembra un ricciolo e i due ipinti è la stessa cosa, attenzione, qui vi sto svelando uno dei tanti segreti di Leonardo, i riccioli che lui disegnava, che sono meravigliose opere d'arte, sono le stesse cose di quel vortice d'acqua, per lui era la stessa cosa, una volta che capiva anche l'altra, era in grado di arricchire i due campi, l'arte e la tecnologia, con l'approccio d'artista di tecnologia e da tecnologia d'artista, ecco perché in realtà lui è quasi considerato superiore a tutti gli artisti dell'epoca. Vi faccio vedere alcune altre curiosità, questa è uno dei forse più bei disegni cartografici di Leonardo, che era cartografo, era il più grande cartofago dell'epoca, prima di lui nessuno aveva fatto questi disegni, è Imola vista dall'alto, ma la cosa interessante è che non solo è precisa, sembra un disegno di Google oggi, è un disegno perfetto, eppure lui non aveva le macchine volanti per poter osservare queste cose, c'erano dei disegni all'epoca ma il suo è addirittura arricchito dai tocchi dei giardini, degli alberi in verde, oggi un po' i disegni che si fa oggi in architettura. La cosa bella è, guardate, quel cerchio che circonda, quella croce e gli altri spicchi a 45 gradi, per lui questo non è più una semplice cartografia, ma è un'opera d'arte, è un tondo, come il tondo Doni, lui ha fatto il tondo di Imola. Ci sono tantissime cose da raccontare e io vado veloce, oggi vi racconterò molte cose sulla città ideale di Leonardo da Vinci, però prima di andare avanti e parlarvi della città ideale di Vinci, dobbiamo fare due chiacchiere su chi era Leonardo da Vinci, cosa ha fatto, perché purtroppo, per fortuna, io circa dieci anni fa ho detto ma caspita, qua c'è ancora molto da studiare, perché io quando ero giovane, come tutti i ragazzi italiani, sono andato nei musei più famosi d'Italia a vedere Leonardo da Vinci, a parte i due o tre dipinti che conosciamo tutti, la Gioconda, poi ditemi di voi, l'ultima cena e altri, avevo capito, andando a vedere questi musei che ci sono anche oggi, che ripropongo le stesse macchine di quando ero bambino io, che Leonardo, aiutatemi voi, aveva inventato tutto, vi viene in mente qualcosa di qualche documentario, il car armato per esempio che ha inventato Leonardo, poi cos'altro? La mitragliatrice, aiutatemi! La catapulta, bravo! Poi? L'elicottero! L'elicottero! Allora avete studiato, poi? La mitragliatrice si chiama, giusto? 12 cannoni messi in una volta, e poi cos'altro? Parcadute, la bicicletta, avete mai visto le magliette con la bicicletta di Leonardo? Si comprano in tutti i villaggi turistici. Non vi sto a raccontare chi era, dove vissuto, perché le informazioni che trovate sui libri sono molto noiose e sono sui libri, potete andarle a guardare. Per esempio, uno delle, questo, il famoso uomo di Leonardo, uno dei più famosi uomini, alcuni dicono con quattro gambe e quattro braccia, lo riconoscete, giusto? Ce l'avete in tasca sull'euro, il famoso uomo di Leonardo, giusto? E se vi dicessi che ci siamo detti un sacco di fesserie, come si chiama questo disegno? Qualcuno voi sicuramente lo sa. Uomo vitruviano. Uomo vitruviano. Cosa vuol dire? Voi ce l'avete l'informazione, ma non l'avete digerita. Cosa vuol dire uomo vitruviano? Di Vitruvio. Il problema è che forse non tutti sanno chi era Vitruvio e quindi uomo vitruviano è, vabbè, l'uomo con quattro gambe di Leonardo Vinci. No, è di Vitruvio. L'uomo con quattro braccia e quattro gambe nel cerchio e nel quadrato è un'idea dell'architetto Vitruvio, prima di Leonardo. Leonardo ha studiato Vitruvio, che diceva che l'uomo, che per costruire le architetture bisognava basarsi su proporzioni date dal corpo umano, per cui io se devo fare una cosa bella, per capire quanto devo fare un pilone, un castello, invece di inventarmi le proporzioni quattro metri per sette a casaccio, no, io vado a misurare il corpo umano, trovo le proporzioni tra le braccia, le gambe, l'altezza e riporto queste proporzioni nell'architettura e automaticamente, secondo Vitruvio, il palazzo diventa bello, perché è a che fare col corpo umano, diventa nostro. E infatti ci aveva avuto ragione. Non voglio aprire la parentesi su alcune cose esoteriche, magiche, perché sono tutte, scusate, mezze fesserie. In realtà c'è della scienza seria legata a queste cose, ma non c'è niente di esoterico nella proporzione aurea, che in realtà non c'è nella Mona Lisa e in altri disegni. Siamo noi che vogliamo vedere per forza quella proporzione aurea, che è una cosa molto semplice, è semplicemente una chiocciola, Fibonacci, è matematica, è nella natura, ma non deve essere per forza ricercata negli oggetti se non ce l'hanno. Quindi, che cosa ha fatto veramente Leonardo? Qui vedete quello che tutto il mondo conosce, Leonardo la Gioconda. Ma possibile che un quadretto così, scusate l'offesa? Semplice, perché è semplicemente un bellissimo ritratto di una dama. Ha fatto solo quello? L'ultima cena, il secondo quadro più famoso, forse il primo, perché è religioso, conosciuto da tutto il mondo. Quindi cosa ne ha fatti due di quadri? E gli altri come si chiamano? Allora, in realtà questo schema è un po' strano, appaiono alcuni dipinti che sono conosciuti, gli studiosi li conoscono tutti, ma le persone normali qui già si fermano. Louvre, forse, ci sono altri due dipinti, la Vergine delle Rocce, ce ne sono due, forse uno, ce ne sono. Vi assicuro che non sono più di una ventina i dipinti di Leonardo da Vinci. Poi c'è quell'altro problema, quando era giovane i suoi dipinti era lui che dava una mano e c'è una piccola percentuale sua. Al centro della sua vita, tipo la Gioconda e l'ultima cena, sono quasi tutti suoi, anche se ovviamente per l'ultima cena si sarà fatto aiutare dagli assistenti che gli pitturavano di verde 20 metri quadri, giusto? E anche quando ha cominciato a essere vecchio era di bottega, quindi lui era il maestro, ma i dipinti li finivano gli allievi. Quello che mi ha dato sempre fastidio è che Leonardo per 200 anni è stato considerato praticamente solo tanto pittore, ma dipinti ne ha fatti pochi, pochi, rispetto a Michelangelo, Raffaello e gli altri che hanno fatto tantissime altre cose. Lui ne ha fatti veramente pochi di dipinti, perché il mio sospetto è che Leonardo era qualcosa di più, infatti ci sono i famosi codici di Leonardo, da dove derivano tutte queste meraviglie. Ecco quello che abbiamo visto prima, la bicicletta, il cararmato, anzi a proposito c'è anche lo scuba device, quello per andare sott'acqua, bombarde, quell'oggetto che tira sull'acqua, sono tutte cose che da bambino ho capito andando in questi musei, guardando i soliti libri che alla fine sono sempre le stesse cose, presentano sempre queste cose, che tutto questo purtroppo è falso. Eh sì, è una brutta botta. Perché è falso? Perché vi sto dicendo questa cosa che è tremenda? Distruggiamo Leonardo? Sì, proviamo a distruggerlo. Intanto l'uomo vitruviano lo aveva copiato da Vitruvio. Eh sì, è quello, è vero. E tutti questi, queste sue invenzioni, questi suoi copyright, da chi li aveva copiati? Possibile che Leonardo aveva copiato tutte queste macchine? La risposta è sì. Ecco le fonti. Guardate a sinistra, ci sono le macchine dove le copiava e le sue a destra. Lui aveva proprio le copiate tutte quelle più famose. Il cararmato, eccolo lì, fa parte di un libro che si chiama De Re Militari, è un tomo medievale di architettura medievale. Lui l'aveva preso e aveva copiato il cararmato. La bicicletta non esiste, non l'ha disegnata lui. I carri per assaltare i castelli, guardate lì in alto, è sotto la bombarda, ma la catapulta non ce l'avevano già i romani. Che chi ha detto catapulta? Ce l'avevano già i romani. Il carro falciante famoso di Leonardo, il film Ben Urra, ce l'avevano già i romani. La catapulta non è un'invenzione di Leonardo, eppure a noi sembra... Queste erano le fonti di Leonardo. Leonardo non era stupido, era molto intelligente. Per diventare un genio bisogna fare una cosa che voi che siete studenti vi annoiate un po' a fare, ma Leonardo vi fa capire quanto è importante. Per diventare dei geni bisogna studiare. Copiare e studiare nei primi vent'anni della propria vita è la stessa cosa. Quando io dico che Leonardo era un copione, non è per dinegrarlo chissà quale emozione terribile. No, ma pensateci, lui per anni ha vissuto da giovane dal verrocchio. E cosa fa un bambino per imparare a disegnare? Dalla mattina alla sera copia dal vero, si dice. Ha una modella, un drappo, un fiore. E lui tu devi copiare, ma non una volta, tutti i giorni, dalla mattina fino alla sera, per anni, per diventare bravo. Questo è il trucco. Per diventare bravi bisogna copiare e bisogna anche studiare. Lui lo aveva capito. E cosa è successo? Questa è una storia che vi racconto perché è molto simpatica e non vi viene raccontata quasi da nessun libro. Perché questa cosa che vi sto per raccontare è terribile, ma è bellissima. A me ha dato molto fastidio doverlo scoprire da me e scoprire che tutt'oggi alcuni documentari, alcuni storici dell'arte che si occupano di Leonardo Vinci sembrano evitare la questione. Come se Leonardo fosse veramente solo un pittore. Ma non è vero, abbiamo visto solo 24. Alcuni non avevano neanche voglia di farli come l'ultima cena. Ci sono i documenti che dimostrano che lui non aveva molta voglia di finire l'ultima cena una volta iniziata. aveva voglia di fare altro. Questo altro era, lo troviamo nei suoi manoscritti, dopo vediamo perché, quella cosa terribile è questa. A un certo punto avete capito forse un po' la storia, ve la ricordate? Lui era giovane, ha studiato al Verrocchio, è diventato un bravo artista, forse si racconta con la leggenda più bravo del maestro, come tutti i bambini che studiano e lavorano tanto. A un certo punto provate a immaginare un Germano Leonardo che è capace solo di disegnare, non è capace, non è un ingegnere, ha fatto pochissimi dipinti suoi. I suoi colleghi, i suoi amici di bottega erano botticelli, altri artisti, non erano ancora famosi, erano semplici ragazzi molto talentuosi. Che fate voi se siete Leonardo, avete 20 ragazzi intorno a voi e volete fare di più? Andate a lavorare oggi a New York, volete fare i grafici, volete fare il cinema, andate in America, giusto? Leonardo ha fatto lo stesso pensiero, ma io dove vado? Qua sono uno tra tanti, vado a Milano nel 1500, l'industria, il Duca che aveva i soldi e io come faccio ad andare a Milano che sono un poverello qui di Vinci? Ce ne sono tanti, perché il Duca dovrebbe comprarmi, attenzione lo dico apposta, comprare con i soldi? Perché non poteva vivere con nulla. Allora Leonardo fa una cosa incredibile, sono sicuro di questa cosa perché ho trovato il documento, il documento è su tutti i libri, ma nessun libro vi racconta la verità su quel documento. È il famoso foglio del Codice Atlantico 1080, dove c'è il curriculum di Leonardo, che tutti quanti dicono, ah guarda questo bel curriculum che Leonardo presenta al Duca, si presenta come pittore, musicista e altre cose, si raccontano queste favole. E poi un giorno io, dopo aver studiato tutti gli studiosi giustamente che ci sono e che mi raccontano le cose, ho detto ma andiamo a leggere direttamente Leonardo, direttamente le fonti. E ho scoperto che Leonardo scrive, signor mio illustrissimo bla bla bla, per favore assumimi perché io sono capace di un curriculum, il primo curriculum della storia, attenzione ai ragazzi, imparata di Leonardo. I professori si devono tappare le orecchie, io in industriale perché adesso vi sto a raccontare un segreto incredibile. Leonardo fa uno, due, con numeri, tre, quattro fino a dieci. E che cosa scrive al Duca di Milano? Sono un bravo pittore? Ma lui ce ne aveva tanti. Sono il più grande pittore? No, era giovane. Cosa fate voi se dovete farvi assumere dal Duca di Milano che vi paga i soldi? Elogio? L'abbiamo già visto, signor mio illustrissimo, lei che è il più grande bla bla bla. Io so fare guerra, macchine militari segrete. Lui per dieci punti, una dopo l'altra, scrive io so fare i sottomarini segreti indistruttibili, ponti d'assalto, macchine da guerra incredibili, mitragliatrice che nel nemico non neanche si immagina, macchine spaventose e segrete. Ripeto la parola segreta, tante volte ho imparato da Lucarelli, perché è importantissimo direi segreto. E se ci pensate voi, il Duca di Milano che era in guerra con i francesi di qua e di là, quando diceva una cosa del genere, diceva Urca, lo assumo subito questo. Leonardo ha inventato il primo curriculum della storia falso, perché lui non poteva essere un ingegnere militare, è una questione di logica, era giovane, aveva studiato al Verrocchio, cosa vuoi fare l'ingegnere militare? Eppure ha trovato la chiave di lettura per farsi assumere, era furbissimo, era un uomo di marketing, il primo uomo di marketing. Per favore non credetemi, andate a prendere quel documento e leggete, perché si legge da sinistra a destra, perché è una foglia da consegnare, quindi non poteva scrivere al suo modo destra, sinistra, non si capiva niente. Quindi anche voi potete leggere quel documento, andate a cercare e scoprirete la verità con i vostri occhi e direte come me, ma allora mi hanno preso in giro fino ad oggi. Sì, in realtà la verità che in fondo nell'ultima reglina scrive in tempi di pace e non erano tempi di pace, so eventualmente fare anche il musicista, il pittore, lo scultore per il cavallo, bla bla bla, ma era una cosa secondaria. Lo capite il genio da dove nasce? Dalla furbizia, dall'essere intelligente, da capire che quello che mi può dare il lavoro e i soldi per dipingere poi dei capolavori, io lo devo andare ad acchiappare con i suoi interessi. Sarebbe un ottimo strumento di marketing imparare Leonardo da Vinci oggi, che cosa vuol dire essere veramente Leonardo da Vinci. Insomma, fatelo anche voi, ma attenzione, c'è un problema, voi siete giovani, potete anche mentire come ha fatto Leonardo e se poi vi assumono, eh, e sono dolori lì, perché Leonardo è stato assunto dal Duca di Milano. E cosa fa una persona intelligente, furba, sveglia e veloce, che ha capito che studiare e copiare è la chiave di tutto? Opia. Prende tutti i libri che avete visto prima, De Re Militari, Valturio, tutti gli ingegneri che sono praticamente sconosciuti perché sono noiosi, non sono come Leonardo, non c'è il mistero di Leonardo dietro, ma sono importantissimi quei personaggi storici. Bene, lui prende tutti questi libri e li studia dalla mattina alla sera, si appassiona talmente tanto che a quel punto si incuriosisce, dopo lo vedremo, diventerà, io voglio diventare ingegnere come queste persone. E cosa fa un Leonardo da Vinci che per anni aveva imparato a disegnare in modo eccellente, mentre copia le macchine brutte degli ingegneri? Le fa più belle. E qua il segreto incredibile, poiché Leonardo ha disegnato l'uomo vitruviano, più bello di tutti gli altri uomini vitruviani che erano stati disegnati prima, lui è come se avesse rubato il copyright dell'uomo vitruviano e così ha fatto con tutte quelle macchine. I suoi disegni erano talmente più belli, talmente più affascinanti perché erano pieni di arte dentro, teste tagliate, mozzate per far vedere come la macchina era efficiente, il fumo del cannone che sparava, per cui quelle sue opere d'arte che contenevano la copia ingegneristica della macchina che lui aveva copiato erano apprezzate dal duca che vedeva queste meravigliose cose e lo pagava. Avete capito? Per diventare Leonardo da Vinci bisogna studiare tantissimo, farsi furbi e anche ogni tanto dire del bugie, ma essere pronti a studiare e diventare quello che poi voi promettete perché altrimenti l'avrebbe cacciato il duca dopo due secondi. Il duca aveva bisogno di Leonardo da Vinci come deterrente militare segreto perché poter dire nel 1500, io ho l'ingegnere furbo che mi fa le macchine segrete, capite che è un deterrente militare per non farlo alla guerra perché nel 1500, non è come nei film, era meglio non farlo alla guerra perché la prima ferita morivi. Quindi era tutto un movimento di politici, di truppe, di stiamo a guardarci. Perciò aveva bisogno il duca di una persona come Leonardo da Vinci. Ecco perché Leonardo da Vinci ha progettato centinaia di macchine da guerra che vengono in modo stupido, nascosto da alcune mostre, oggi vengono nascosti come se fosse brutto dire che Leonardo era un guerrafondaio, ma non era un guerrafondaio, anche perché lui aveva scritto che la guerra è una cosa biestralissima. Allora era un pacifista? È sbagliata la domanda. Noi non possiamo dare dei giudizi morali su una persona che è nata nel 1500, è un guerrafondaio, è un omosessuale, ma che caspita ce ne importa a noi? Lui viveva in un'epoca per esempio nel 1500 in cui la guerra era una cosa normale. Attenzione, la tecnologia, la meraviglia, lo studio della tecnologia come oggi deriva da studi militari. Tutte le nostre aerei, i nostri congegni più importanti, i droni, secondo voi se gli militari non avessero studiato il drone, oggi saremmo... Capite che tutta la tecnologia nasce dall'esigenza e dal potere dei soldi della guerra, di potersi difendere contro il nemico. Era la stessa cosa nel 1500, anzi molto meno, peggio di oggi perché era fatta la luce del sole. Finisco qua con il giudizio morale e andiamo avanti per cinque ore. Qual è il codice più famoso di Leonardo da Vinci? Questi sono i codici veri, sono i manoscritti di Leonardo, sono piccoli libricini, il più piccolo misura veramente un ottavo piccolino così da mettere in tasca, perché erano taccuini da viaggio, perché lui quando è venuto poi a Milano, avete presente no? Quindi lui è venuto a Milano, il duca gli chiedeva queste macchine, lui andava a studiare la mattina e la sera, le copiava, gliele rivendeva e nel frattempo si appassionava di meccanica, di arte, di natura e andava a comprare questi manoscritti dove lui studiava, erano praticamente i vostri quaderni di scuola, sono questi. Non solo erano quaderni di scuola, ma vi dico una cosa incredibile, questo era il cellulare di Leonardo da Vinci. Voi oggi purtroppo usate l'80% del vostro tempo col cellulare a fare foto selfie e postarli su Facebook, su Instagram. Beh Leonardo faceva la stessa cosa, identica, lui faceva i selfie non a se stesso, le fotografie alla natura, alle macchine che vedeva a Milano, agli oggetti, agli uccelli, agli animali, li metteva qui dentro e mentre noi facciamo uno scatto, dopo tre secondi ce lo siamo dimenticati, lui doveva usare del tempo, ecco la chiave fondamentale, del tempo per poter disegnare, mentre disegnava quell'uccello, quell'animale, quella macchina, lui doveva usare il cervello per capire come funzionava, perché se non capisci come funziona non puoi disegnarlo. E in questa operazione che i giovani di oggi hanno completamente dimenticato, le scuole stanno distruggendo, c'è il fatto che mentre io faccio la fotografia studio quell'oggetto perché sto usando il tempo celebrale per impararlo, quindi fare uno scatto è stupido perché io non imparo niente da uno scatto, l'ho già dimenticato, quante cose avete visto voi di bello in giro per il mondo, fai la foto, dici ah tanto ce l'ho sul cellulare, eh vado a ripescare la foto di quell'oggetto importantissimo che ho visto in quell'albergo vent'anni fa, che si è persa intanto, bruciata, chissà dove l'ho messa, è tutto tempo perso, invece Leonardo dedicando quei cinque minuti a disegnare quell'oggetto, se l'è registrato nel cervello. Il codice atlantico è il più famoso codice di Leonardo, vedete, lo vedete? Questo è un bellissimo tomo gigante che oggi è stato distrutto, sfascicolato, in realtà rigeneriamente questo codice atlantico è un raccolta di 1200 fogli, posso fare una parentesi scherzosa così è una cosa che sapete solo voi, la potete giocare come jolly, neanche il codice atlantico è di Leonardo, ma possibile, ma no, ma cosa mi sta dicendo questo? Basta leggere, il problema è che questo oggetto voi non lo trovate più nelle mostre, perché vi fanno vedere, cosa vi fanno vedere? La bicicletta, la catapulta, le solite fesserie, no, disegni di arti segrete e altre cose di Leonardo da Vinci raccolti da Pompeo Leoni, era un devoto artista del suo maestro Leonardo da Vinci, successivo, che ha raccolto come oro tutti i manoscritti di Leonardo da Vinci, sia perché era meravigliato Leonardo, ma sia perché li voleva vendere, infatti il codice atlantico e la raccolta, può rimanere questa cosa tra di noi, non la diciamo nessuno, degli scarti di Leonardo, perché i veri codici sono questi libri fascicolati che lui aveva, ma Leonardo mentre guardava e studiava qui dentro, nella sua scrivania, siccome lui era veramente multitasking, non come noi che pensiamo di essere multitasking, invece è il computer che è multitasking, lui contemporaneamente mentre faceva uno schizzo qui, faceva un altro foglio, poi un altro foglio, usava tantissimi fogli per lavorare su un progetto, quei fogli e quegli scarti di lavorazione sono andati a finire qui dentro, Pompeo Leoni con una bella forbice li ha ritagliati e ha appiccicato con la colla di pesce tutte queste figurine ritagliate su quel codice che è un libro a forma di atlante, perché quelle pagine formate a 50x60 circa venivano utilizzate come fogli per disegnare gli atlanti geografici, allora lui ha preso questi fogli e ha incollato sopra i manoscritti, diciamo così, gli scarti, ci sono anche bellissimi disegni, ma gli scarti di Leonardo sfascicolati. Quanti sono i codici di Leonardo? Dei quadri ne abbiamo già parlati, perché vi faccio tutto questo discorso strano? Perché i codici che oggi abbiamo noi sono circa 600 facciate di fogli, 6.000 scusate, 6.000 facciate, 6.000 manoscritti, voi ne avrete visti nei libri che ripetono, ripetono sempre copie di altri libri che copiano altri libri che copiano altri libri e si citano a vicenda per questioni di accademicità, ne vedete quanti? 20, 30, sempre gli soliti disegni, il teschio, il cararmato, sempre le solite cose, ma negli altri 5.900 fogli, che diavolo c'è? Vi racconto qual è il mio lavoro, spero che ci sia tempo per parlare della città ideale. Allora, vi faccio vedere qual è il mio lavoro che per me è molto divertente. Io vado a cercare tutte le relazioni che ci sono tra tutti questi manoscritti, perché quello che credo di aver scoperto, l'acqua calda, qualcuno direbbe, ma è logico. Leonardo quando doveva registrare un progetto, studiava, lo rielaborava tante volte, lo ridisegnava tante volte, ma su tanti fogli, uno dopo l'altro, su questi manoscritti pagina dopo pagina, su quei fogli, su più fogli. Quindi per capire un progetto di Leonardo io devo andare a ricercare nel tempo e nello spazio tutti i frammenti, è un lavoro difficilissimo, ma è anche come io la chiamo l'archeologia vinciana multimediale. Tutti i frammenti rimetterli in ordine per trovare le logiche ci sono dentro quegli schemi e sembra un disegno fatto in computer grafica a casa, in realtà questo io me lo sono studiato, tutte quelle relazioni che vedete lì sono tutti argomenti, per esempio sul rosso è un orologio, sul verde è un androide, su un altro colore è una macchina militare. Guardate questi fogli sparsi, in ogni uno di questi fogli ci sono dei frammenti che collegato con gli altri mi danno un progetto, perché Leonardo aveva mille idee ogni giorno e le appuntava tutti sui quaderni e quando il giorno dopo vedeva una libellula sul naviglio di Milano diceva ah ecco come fa a muovere quelle quattro ale, altro che drone. Allora quel movimento di ali io lo ridisegno perché mi serve per la macchina che avevo progettato ieri. Insomma è un vero macello ma è divertentissimo, vi faccio vedere uno di quei 5.000 fogli che nessuno vi fa mai vedere e che è la base del nostro studio della nostra mostra a Milano che per la prima volta con un po' di difficoltà perché capite che quando uno dice abbiamo scoperto delle macchine nessuno gli crede, ma il problema cos'è che non è che abbiamo scoperto, siamo andati a studiare le macchine e i manoscritti che nessuno ha mai studiato perché venivano considerate come questo disegno brutte, perché oggettivamente questo è un disegno brutto di Leonardo Vinci, non è la Gioconda, eppure qui dentro ci sono più segreti, più cose interessanti della Gioconda, che eresia, ma è così. A meno per chi studia ingegneria, scienza, matematica, tutte le altre arti, qui dentro c'è più cose che nella Gioconda. Ma sono cose che poi servono anche per disegnare la Gioconda perché senza di questi studi Leonardo non avrebbe potuto fare quei disegni, quei dipinti così precisi. Qualche cosina la riconoscete anche voi, c'è quel drappo che è un disegno artistico, perché ricordatevi che Leonardo è sempre un artista e contemporaneamente quando fa questi studi, lui è sempre alla ricerca di stile e di arte e di idee per fare i nuovi dipinti, quindi è contemporaneamente tutto, ingegnere, militare. Vi faccio vedere, il mio lavoro è quello di scomporre quel foglio in tutte le sue parti, qui in questo singolo foglio ci sono circa 60 soggetti, ognuno di quelli, guardate in alto a sinistra, quello si chiama complicatissimo, quella è una sezione di un astrolabio che serve per far muovere una sfera con un movimento strano, perché se io considero la Terra al centro dell'universo i pianeti girano in modo strano, sapete la storia, non entro nel dettaglio che può essere complicato per chi non lo sa, Copernicano, i sistemi sono diversi a seconda di come li so servo, quel sistema era un planetario che serviva per simulare il movimento dei pianeti in modo diverso dal solito. Tutti questi sono orologi, questi sono tutti oggetti che io rifaccio tridimensionalmente e che sono contenuti in quel singolo foglio di quei 6.000. Qui ci sono meccanismi per ologeria, accenni a droni, quel casco che vedete in basso, non è un soldato come Goldrake per andare in guerra, era un pupazzo che forse lui avrebbe messo su un orologio che ogni ora avrebbe mosso la testa, per esempio, perché c'erano questi congegni all'epoca. Vi racconto questo per farvi vedere qual è il mio lavoro, io prendo questi manoscritti, studio cosa c'è dietro, qui per esempio era l'idea di fare di Leonardo di fare veramente una riproduzione meccanica del movimento del corpo umano, studiando dove sono le giunture, trasformando le giunture del corpo umano in carrucole collegate da semplici corde, attenzione, semplici corde, qua non c'è elettronica e tutto, eppure lui faceva anche i robot. Questo oggetto poi noi lo ricostruiamo nei laboratori di Leonardo III, cercando di utilizzare materiale dell'epoca senza usare i viti e colle, tutto a incastro come ci insegna Leonardo, cercando di utilizzare, per esempio, quella è una vera armatura del 1500 milanese, non quelle finte di latta, pesa anche tantissimo, l'ho provata per un giorno, è difficilissimo portare un'armatura, quindi lì ho capito che era tutto un blef quando si vedono in quei film con le armature che vanno in guerra, è molto difficile portare un'armatura per ore e ore. Insomma, costruendo questo semplice robot esce fuori che questo è un sistema quindi di trasmissione del moto, molto semplice, che noi sappiamo se conosciamo le carrucole. Cosa faccio però? Io oltre, poi nelle nostre mostre mettiamo quel robot, ma per capire come funziona, la chiave di lettura che è quello che fa la differenza del nostro lavoro, è che noi cerchiamo di trovare, non solo di studiare, ma di trovare dei metodi simpatici, divertenti, poter comunicare alle persone normali e quelli che hanno bisogno, più bisogno di noi che siamo adulti, quindi bambini, che hanno bisogno di studiare, come faccio comunicare a un bambino, a un ragazzo, a una persona che ha voglia di imparare le complessità dei manoscritti Leonardo. Abbiamo realizzato dei piccoli software, dei giochi, dei grandi software multimediali, dove le persone smontano le macchine, le rimontano seguendo le istruzioni e capiscono anche i bambini di 4-5 anni che per montare questo robot c'è bisogno delle sue 4 carrucole, di una corda che collega tutto e se muovo la corda a quel punto il robot semplicemente muove le mani a destra e a sinistra, non deve andare in guerra, deve semplicemente muove le mani a destra e a sinistra. Un robot, un androide che nel 1500 muoveva le mani da solo a destra e a sinistra era già una meraviglia, poteva essere utilizzato come nel teatro, nel Duca di Milano nella sua corte ci metteva tutti questi robot collegati tutti da quel sistema che avete visto all'inizio di Octopus che è con tutte le carrucole e indovinate da dove prendeva l'energia? Dall'acqua, perché tutto nel 1500, tutti questi meccanismi dovevano funzionare con l'acqua perché era l'unica fonte di energia, vi faccio vedere questo che è un robot leone per esempio, è una vera macchina che lui nel 1500 aveva costruito per i re di Francia, era già diventato famoso e lui a quell'epoca aveva costruito questa specie di robot per il Duca, era stato commissionato dai fiorentini, pagato anche dai fiorentini per come omaggio a re di Francia, allora lui aveva pensato di fare uno dei primi robot della storia, è un meccanismo molto complesso che funziona con le carrucole ma che ha come energia qualcosa di diverso dall'acqua, allora adesso vi farò vedere la città ideale e vi farò capire come l'acqua, potete immaginarlo bene voi, era fonte di energia, ma se io devo costruire un robot come il leone che deve viaggiare da solo per qualche metro in una stanza come questa dove c'è il re di Francia, dove la prendo l'acqua, l'unica fonte di energia del 1500, no in realtà ce ne sono due le fonti di energia principali, uno era l'acqua in movimento e l'altro gli animali che tiravano gli aratri, c'era un'altra cosa fondamentale che oggi abbiamo trasformato in energia elettrica, nel 1500 come potevo avere un'energia accumulata dentro questo oggetto che lo trasforma in un robot, il concetto di robot non so se lo sapete è un oggetto che in autonomia ha un programma e ha una fonte di energia autonoma, l'unico oggetto che può dare energia a una macchina che si muove da sola nel 1500 è una molla, gli orologi, la molla era l'unico accumulatore di energia metallica che poteva poi rilasciare l'energia successivamente, tutte le macchine fatte in questo modo anche quel leone, all'interno probabilmente aveva una grossa molla, quindi erano tutti orologi, guardate questa cosa, è un drone, questo l'ha realizzato Edoardo Zanon di Leonardo III, è un libellula meccanica che non serve per volare ma è l'antenato dei nostri droni perché all'energia all'interno, vedete in basso a sinistra ci sono quelle due grosse molle, l'orologio della nonna di una volta che si andava caricato, aveva due molle, una per l'ora e una per la sveglia, uguale, non è cambiata in 500 anni, stessa cosa qua, questo è uno dei primi droni di Leonardo Vinci, è una macchina meravigliosa perché non è un'automobile come è stato detto quando ero giovane, ho visto questa automobile in tutti i musei del mondo, grande, in realtà no, questo è un oggetto molto piccolo, è un oggetto teatrale che funzionava come un piccolo robottino che si poteva muovere in teatro e funzionava sempre con quelle due molle. Potrei andare avanti per ore ma a questo punto passiamo a una cosa interessante che è questo, qui ci sono le postazioni multimediali che abbiamo in mostra, questa è una cosa interessante che adesso andiamo a vedere nella città ideale, che è un meccanismo molto perpetuo per creare energia infinita nella città ideale, qui ci sono le postazioni multimediali e vediamo questo che è il manoscritto B, ve lo faccio vedere, questo qua, c'è un bambino di 5 anni che lo sta manipolando e adesso ve lo faccio vedere. Eccoci qua, queste sono le 200 pagine del manoscritto B, qualcuno mi può dire i tempi così so come calibrarmi, qui ci sono 200 pagine di meraviglia tecnologica, qui ci sono una 5 o 600 macchine tridimensionali, tutte a vostra disposizione, ma quello che volevo farvi vedere è un qualcosa di strano, partiamo da una immagine a caso, qua. Allora qui sono ancora nelle immagini, ma questo è interessante. L'avete visto quelle 200 pagine? Allora in quelle 200 pagine sono qui, poi se volete dare un'occhiata a questo manoscritto sono qui dentro. Leonardo, vi ricordate dove era? A Milano, cosa doveva fare? Doveva rispondere al duca delle macchine militari, nel frattempo lui doveva studiare. Allora lui cosa fa con questo taccuino? Studia tutto quello che vede, dalla mattina alla sera e lo appunta da destra verso sinistra, perché lui era mancino, e comincia nella prima pagina, per esempio l'avete vista prima, a disegnare una libellula. Perché? Perché aveva visto una libellula, vicino a Milano c'è il naviglio, c'erano le libellule, e lui appunta proprio le libellule, non solo come disegno artistico, ma voleva capire come funzionava il modo di muovere le ali, perché una libellula ha un modo di muovere le ali completamente diverso da un pesce volante o da un pipistrello. Leonardo aveva capito che se voleva costruire le macchine volanti, doveva studiare tutti gli animali. Le vediamo dopo. Lui va avanti, fa disegni di macchine militari, a un certo punto comincia a disegnare delle piccole, lo vedete qua, torri, poi dei tetti. Perché in questo manoscritto, al centro di questo manoscritto, è come se lui facesse contemporaneamente a tutti gli altri disegni il progetto della sua città ideale. Chi di voi è architetto ha studiato architettura, sa che c'è un detto, che un architetto designer che è capace di fare tutto, studia dal cucchiaio alla città, ovvero è capace di fare il designer per un cucchiaio, ma è in grado anche di progettare la città. Ma questo concetto non nasce oggi dagli architetti, nasce da Leonardo, lo vedete in questo schema, se si può vedere la figura in basso, guardate in basso a destra, riuscite ad entrare a vedere quei due cucchiai? Quei due cucchiai sono degli oggetti grandi 20-30 centimetri un metro, quelli sono gli strumenti da lavoro che servono per costruire, provate ad andare con l'immaginazione un po' in alto e a destra, partendo da quei cucchiai, con quegli oggetti io costruisco piccoli oggetti all'interno delle case, costruisco delle case, vado in alto, ci sono le finestre, i tetti li vedete in alto al centro, poi in basso delle scale. Praticamente lui fa una specie di manuale dell'architetto, perché non tutti lo sanno, ma questo è anche un manuale, un trattato di architettura di Leonardo da Vinci, che studia da quali strumenti, grazie all'ingrandimento, si possono utilizzare per poter fare la città ideale, fino a spostarsi, se mi ingrandisci di nuovo tutta la figura, di nuovo tutto? Ok, guardate, andando in alto a sinistra, quella figura che vedete in alto è la pianta di una città come New York, allora siccome è molto strana ve la faccio vedere. Allora, devo uscire dal... Perché c'è un leggero ritardo, ma provo a muovere il mouse per farvi capire di cosa stiamo parlando. Allora, partiamo da qua in fondo, questa per esempio. Allora, qui Leonardo realizza una cosa molto curiosa, sembra Escher, avete presente Escher? Perché fa questo disegno molto strano di scale? A cosa gli serve? Allora, intanto lui è curiosissimo e abbiamo capito, la metà dei disegni di Leonardo di quei 6.000 fogli sono lui che studia, ma quando poi studia l'architettura, l'ingegnere militare, lui si incuriosisce e vuole migliorare e aggiungere sempre qualcosa di nuovo. Guardate quelle scale, provate a immaginare, voi siete in alto a destra e arriva un nemico in basso a sinistra. Se lui sale da una scala A, voi scendete dalla scala B e non vi incontrerete mai, perché le due scale si incrociano ma non si guardano. Vuol dire che se un nemico arriva da sotto voi potete scappare tranquillamente e questo è un modo, avete capito bene, di vendere un progetto architettonico anche a scopi di salvarsi, militari. Ne faccio vedere altri, vediamo se riesco a tornare indietro e sfogliamo il manoscritto in ordine cronologico, quindi a sinistra. Allora qui c'è Leonardo che studia per esempio, guardate bene, le porte, le finestre, la struttura di un'architettura. Qui ci sono, guardateli qua tutti quegli oggetti, li vedete, li conoscete. Praticamente lui fa il catalogo di tutti gli oggetti che servono per costruire la città, dagli oggetti più semplici a quelli più complicati per poter fare dei buchi, per scavare la terra, per fare… Qui per esempio c'è una cosa bellissima, lo vedete questo oggetto, questa brocca? Lo guardate questa collina qui in alto, questa è una cosa che dal punto di vista geografico è molto bella. Voi come fate a costruire una città intanto che, diciamo così, deve essere piatta? Se a un chilometro di distanza voi avete tutta una questione collinare, voi dovete fare la stessa altezza per mettere un punto alla stessa altezza vostra. Oggi cosa si fa? Si prende altimetro, GPS, tatatà, in due secondi si ottiene. Ma nel 1500 come avreste fatto voi? Come si fa nel 1500 senza tecnologia a trovare il punto preciso a un chilometro di distanza alla stessa altezza? Il problema è che oggi queste cose agli ragazzi non vengono più insegnate perché diamo per scontato che tanto c'è la tecnologia. Ma se un giorno vi si rompe il GPS, ma se un giorno voi dovete andare su Marte e vi si rompe una cosa elettronica, come caspita fate? Vi uccidete? No! Se noi potessimo insegnare queste cose ai nostri ragazzi oltre che la tecnologia sarebbe bello. Perché Leonardo cosa fa? Lui dice, intanto non se lo inventa lui. Lui studia gli antichi romani e scopre che c'è una cosa che si chiama groma, lo vedete in basso, quella specie di oggettino lungo con una brocca d'acqua, la vedete? Il groma che usavano i romani era un oggetto, praticamente una vaschetta d'acqua, una bilancia che si muove, voi me lo mettete qui, mettete l'acqua, l'acqua la mettete in orizzontale, andate a guardare con un mirino in fondo quando l'acqua è orizzontale sul piano e potete andare a vedere in fondo dov'è il punto alla stessa altezza, perché l'acqua è sempre parallela. Avete capito? Non c'è bisogno dell'elettronica, c'è bisogno di due cose, uno intelligenza e il secondo studio. Questo è un sistema avanzatissimo, oggi considereremo eltronico, per poter fare la città a livello. Andiamo avanti, qui c'è un sistema per esempio quello lì in alto a destra, non è un cavatappi, alcuni hanno venduto alcuni progetti Leonardo come oggetti assurdi, in realtà quello è un oggetto per fare i buchi all'interno del terreno per metterci i pali. Ci sono sistemi come delle dighe per bloccare l'acqua che arriva momentaneamente per costruire qualcosa su un letto di un fiume, per poi riaprirlo per esempio. Qui ci sono altri sistemi, qui è bello perché a un certo punto Leonardo si scorda di progettare la cittadiale e continua la sua ricerca di armi militari da guerra e racconta come nelle genti dell'Asia usavano i cammelli con dei salvagenti collegati uno tra loro per fare dei ponti per attraversare dei fiumi a scopo militare. Ci sono delle storie meravigliose una dopo l'altra, sempre ricordatevi che Leonardo in quel periodo a Milano doveva poi rendere conto al Duga, quindi lui era preparatissimo perché studiava in tutti questi manoscritti e tutto e se le appuntava ed era pronto a rispondere a qualsiasi domanda di esigenza anche militare bellica. Qui ci sono degli schemi per deviare un fiume, questi sono gli schemi per creare, in alto a sinistra avete un castello, in basso a destra un ponte elevatoio segreto, il nemico si avvicinava, cadeva automaticamente in una botola nascosta nel castello, altro che signore degli anelli, se avessero usato questi manoscritti come fonte di macchine da guerra avremmo visto dei film meravigliosi. Comunque in alto a sinistra e a destra vedete sempre questi sistemi per arrampicarsi, per andare a… ah questo è curiosissimo, tutti quanti avete, conoscete per esempio il cararmato di Leonardo Vinci, quello che hanno, ce l'hanno tutti i musei che io ormai sono abituato a dire, l'ho apprezzato quando ero giovane ma adesso non ci casco più. Il cararmato di Leonardo che era la copia di Valturio, lui l'aveva consegnata al Duca, ricordatevi, ma quella macchina non poteva funzionare, sono state fatte alcune ipotesi, si capisce che la macchina è sul campo degli omini che muovevano le carrucole, non erano abbastanza forti per muovere quell'affare enorme, sarebbero andati pianissimi con una tartaruga, una cosa terribile, bastava lanciarci una freccia di incendiaria, era distrutta, era una macchina, una fesseria. Attenzione, la maggior parte delle macchine da guerra medievali erano mezze fesserie, erano più cose scenografiche, il drago gigante, il ponte enorme, erano tutte cose a crocchi medievali per tentare di progettare qualcosa, come oggi li considereremo dei film, fantascienza. Però Leonardo dice, ok, quel carro lì non funziona, dopo, da solo, per se stesso, non per il Duca, in alto a destra, progetta l'evoluzione di quel carro, che è questa, perché se dentro lui dice, io ci metto due cavalli, che sono pilotabili, lo posso questa macchina mandare contro i nemici, che fa stragi. Una curiosità, questa macchina lui la descrive a fianco, una cosa molto molto bella, sapete dove deriva l'esigenza di costruire questa macchina? Non dal nulla, di nuovo, per diventare dei geni, progettare quella macchina bisogna studiare, perché lui aveva studiato Annibale, aveva visto, aveva letto che c'erano gli elefanti, che erano delle macchine enormi, ma aveva anche letto che gli elefanti davano un sacco di problemi anche ai propri soldati, perché non erano così facili da manipolare. E quindi lui cerca di studiare tutte le macchine belliche, comprese gli elefanti di Annibale, e cerca di trasformarli in qualcosa di più gestibile. Questo è l'elefante di Annibale meccanico, perché è più gestibile, perché ha dei cavalli e intorno alla corazza e anche delle lame. Quindi deriva sempre dallo studio delle cose, i progetti Leonardo. Per non parlare, questo ve lo devo raccontare, ma è meglio che mi fermo e vado alla cittadale. Guardate, lo vedete questa specie di scudo rotondo con dei segnetti. Questa è troppo bella. A un certo punto Leonardo studia gli scudi, lui dice, ma se vi doveste trovare a un certo punto circondati da tutti i nemici, siete da soli, col vostro scudo bellino, rotondo, anche grande, ma se siete circondati da nemici, siete morti. No, col mio progetto, attenzione che lui voleva poi vendere, anche guadagnacci dei soldi, con lo speciale copyright di Leonardo da Vinci, guardate lì in basso, quello scudo meraviglioso. Vedete che ha tanti segnettini? Allora Leonardo dice, io metto, circondo lo scudo all'interno di tanti scoppietti, razzetti, razzi. Quando sono circondato da nemici, mi accovaccio, metto lo scudo in testa, accendo la miccia, tutti gli scoppietti intorno scoppiano, io uccido tutti gli nemici di cui sono circondato. Tutto descritto in una mezza paginetta di questo codice. Vi assicuro di questi congegni militari curiosi e strani, ce ne sono a centinaia. Ma lui continua sempre la ricerca storica sulle sue armi e continua a progettare la sua città ideale. Adesso vi faccio vedere alcune cose molto interessanti e parlerò solo della città ideale, non mi fermo che si trova delle cose meravigliose. Dovete venire alla mostra di Milano per vedere le altre. O ci dobbiamo vedere per Leonardo ingegnere, Leonardo cartografo, Leonardo architetto. Non si finirà mai. Qui è Leonardo che copia le cattedrali milanesi. Le copia perché vuole diventare un architetto, vuole studiare come funzionano le cose, perché lui parteciperà anche a degli concorsi internazionali, chiamiamolo così, per la costruzione del Duomo di Milano. Sarà un fallimento per lui. Il Leonardo fallimento è una lecture che dura due ore, ma è bellissima, perché Leonardo è pieno di fallimenti. Il problema è che nessuno lo racconta perché vogliamo ottenere questo alunni di genio intoccabile. Ma se noi insegnassimo ai nostri figli che anche un Leonardo sbagliava, potremmo far capire ai nostri figli che anche sbagliando si impara, che è una lezione più importante di tutte. Ma lasciamo perdere che andiamo avanti. Qui c'è sempre Leonardo che studia questi sistemi di architetture. E qui cominciamo con l'acqua e la città ideale. Guardate qui in alto questo oggetto. In realtà questo già esisteva, ma lui cerca di ingegnerizzarlo. Si chiama Pompa Paternoster. Non so se avete mai sentito parlare di questo congegno assurdo. Praticamente Paternoster perché avete presente quelli, come si chiamano, i rosari fatti a palline? Come si chiamano? Paternoster. Provate a immaginare di prendere un Paternoster e farlo dieci volte più grandi. Lo mettete in due tubi. Praticamente quelle palline tappano il tubo, vanno sotto, prendono l'acqua e la portano su. Con questa ruota che vedete che c'è un omino che corre dentro? Si chiama ruota calcatoria. Come i criceti. Stessa cosa. Un omino, un cavallo, un bue, si mette lì dentro e camminando dà energia sufficiente per tirare fuori l'acqua da sotto terra. Lo vedete qua sotto lo schema. Guardate bene, questa è la prima volta nella storia in cui un architetto ingegnere inventa il disegno tecnico perché qui vedete la macchina in alto in assonometria. Voi sapete cosa è l'assonometria. Quindi vuol dire che le misure sono corrette. Quindi è già un disegno tecnico questo. Non è un'invenzione a casaccio. Una sezione del terreno dove vi fa vedere il meccanismo sotterraneo. Leonardo è uno dei primi che crea le sezioni in trasparenza dei palazzi. Che è un concetto meraviglioso perché lui dice togliamo le cose che non ci servono. Guardiamo cosa c'è dentro nel cuore delle macchine. Lo fa anche con le macchine. Questo è incredibilmente affascinante questo meccanismo. Lo vedete? Questo ve lo descrivo. Non vi faccio vedere l'animazione perché sennò è difficile per me pilotare il mouse. Guardate quella specie di scatola. Cosa vedete? Vi insegno anche un po' a guardare. Guardate cosa c'è dentro. Intanto quella scatola è curiosa perché lo vede? Non è soltanto una scatolina che potrebbe essere altre 5 centimetri. Attenzione, Leonardo non mette mai le misure. Questi sono manoscritti per se stesso. Non deve vendere il progetto agli altri. Quindi sono cose che lui si tiene per te e non ha bisogno di scrivere istruzioni inutili. O che qualcuno possa copiare. Altro argomento meraviglioso. Guardate quell'arco. Quello è un palazzo. Lì stiamo parlando sotto di circa 3 metri e sopra di altri 3 metri. Stiamo parlando di un oggetto dentro un palazzo alto circa 6 metri. Da qui la mia grande chiamiamola scoperta. Io quello che credo di aver scoperto è questo. Che la città ideale non è la città che da bambini ci hanno sempre venduto come quella città bellina che Leonardo ha esteticamente curata. No. Quella esisteva già. Si chiamava Vigevano. Si chiamava Milano. C'era già. Lui semplicemente l'apprezzava. Lui ha inventato una città interna alla città. Piena di meccanismi. Sembrano film di fantascienza. Leonardo aveva progettato centinaia di macchine come queste nascoste all'interno dei palazzi che avrebbero fatto funzionare tutta la città sfruttando l'acqua come fonte di energia, di pulizia, di ogni cosa. Una città meccanizzata. Una specie di steampunk a Leonardo. Ma guardatela. Lo vedete che c'è una barca? Che caspita ci fa? Una barchetta dentro un palazzo. Quella barca è collegata in alto. La vedete? Avete mai presente un pendolo? Cosa fa il pendolo? Avanti e indietro. Quella barca è piena di sassi. In alto a destra c'è una cordicina. La vedete? Seguitemi perché così è bellissimo perché potrete anche decifrare altri codici di Leonardo che anche se è difficile ci si può arrivare. Bene. Un bambino tira quella cordicina da fuori. La tira come un giocattolo. Quella barca comincia a avvicinarsi di 10 centimetri. è pesantissima. Sarà due tonnellate di pietra. Quindi quel pendolo comincia ad andare avanti e indietro e non lo ferma più nessuno per qualche ora. Basta un piccolo colpo di un bambino che tira la cordicella e quell'oggetto di due tonnellate va avanti e indietro lentamente. Il moto viene trasmesso in alto dove c'è quel cerchio. Collegato lo vedete a destra e a sinistra da due. Dietro guardate cosa c'è. Due pompe che vanno sott'acqua. A destra e sinistra. Quindi il movimento è oscillatorio. Tac. Tac. Sotto va sotterranea. Nella cittadeale c'è un fiume. Pesca l'acqua. Acqua gratis dal sottosuolo. Gratis. Basta un bambino che spinge la barchetta. Oggi noi abbiamo bisogno di elettricità. Ma con queste idee non c'è bisogno neanche dell'elettricità per far funzionare una città. Qui in alto guardate questo oggetto. È una specie di pompa doccia con cui io posso manipolare con questo secchiello che rappresenta un peso. Lo tiro giù e tiro su. L'acqua che poi mi casca mi va in una doccia una specie di canale che viene trasportato poi da un'altra parte. Qui in alto. Questa ve la faccio vedere perché qui entriamo nel campo del Leonardo mago. Nel Leonardo schizofenico. Ma nel Leonardo che come tutti gli ingegneri dell'epoca cercava la pietra filosofale dello scienziato. La pietra filosofale dello scienziato è energia gratuita. Fissione nucleare. Oggi la chiameremo noi. All'epoca si chiamavano macchina a moto perpetuo. Ovvero con l'ingegno costruire un meccanismo che va da solo e mi crea energia da solo. Di queste macchine lui ne aveva inventate copiandole alcune, studiandole tantissime. Alla fine aveva capito che nessuno di queste avrebbe mai funzionato perché queste macchine non possono funzionare. Guardate però il concetto che c'è dietro. Se io ho un bacino d'acqua in alto, quest'acqua la faccio scendere e quindi mi crea un'energia potenziale, quindi flusso d'acqua che spinge. Mi spinge questo oggetto che girando mi fa azionare una pompa e questa pompa prende l'acqua che sta nel laghetto e me la tira su. Quindi praticamente sfrutto quell'energia per prendere l'acqua che sta a valle e per riportarla al monte. In realtà funziona tutto. In realtà tecnicamente, energicamente, in un mondo ideale funzionerebbe perfettamente. È una macchina che va all'infinito. Basta un granello di polvere che rallenta di un quel 0,0001 quella pompa là sotto che il sistema perde energia e non funziona più. Leonardo ha dedicato tantissimi anni della sua vita a cercare dei sistemi meccanici per migliorare questa efficienza di perdita di energia, per trovare un'enorme macchina a moto perpetuo da regalare alla città ideale, da nascondere dentro i palazzi e creare energia per la città infinita, che è uno dei concetti più belli che ho trovato di Leonardo Vinci, più importante delle macchine volanti. Donare la sua città di macchina a moto perpetuo per creare energia dal nulla. Tutte queste macchine, poi chiaramente provate a immaginarle, qui non ve le faccio vedere, ha centinaia di macchine per produrre cappelli, per poter far funzionare una lavanderia, per far funzionare i mulini che girano, eccetera, eccetera. Tutto funzionante con l'acqua. Vi faccio vedere altri sistemi. Qui in realtà c'è sempre Leonardo che studia in alto a sinistra le armi. Qui c'è come si scavano i sistemi per costruire palazzi, architetture qua in alto. Oh, questo ve lo devo far vedere, ve lo devo raccontare. Guardate qua che bello questo oggetto. Leonardo non solo progetta la città ideale, ma siccome lui è un ingegnere, per me superiore l'ingegnere Leonardo che l'artista Leonardo, è una questione di numeri. I manoscritti sono talmente tanti e le idee sono talmente tante e il tempo che Leonardo ha dedicato a questi studi sono talmente superiori al tempo che lui ha dedicato ai suoi disegni, che è una questione di proporzioni geometriche. Leonardo era più ingegnere che artista, meraviglioso artista. Purtroppo oggi viene venduto solo come artista. Guardate questa macchina, che cos'è? Lui dice, ok, vi ricordate quel battipalo che abbiamo visto la prima, per fare un fondamento di una città. Ma io per fare un battipalo ho bisogno di un palo, che magari è appuntito, ho bisogno di fare un oggetto che è strano. Lui studiava anche le macchine per creare gli oggetti per la sua città ideale. Questo è meraviglioso perché lui dice io devo fare una specie di, come si può chiamare, trapano enorme, lo vedete delle proporzioni dell'uomo che c'è in alto, che mentre, che praticamente è una specie di trapano con la punta in alto, che solo per gravità, per peso va in giù, quindi io muovo il palo su cui voglio fare il buco e automaticamente da sopra si fa il buchino con la gravità del peso che c'è in alto. Vedete quell'ombrellino, quella specie di fungo che ha al centro? Lui dice ma se io sono sotto, che sto girando il palo e sopra mi si gratta, mi cade tutta la, diciamo così, la segatura in testa. Qui c'è un Leonardo che esagera. Di tutto lui pensa anche ai sistemi di sicurezza, ai sistemi antinfortunistici, tutto pensa. E lui dice, mette quella specie di capannella per proteggere l'omino che sta sotto dai detriti. Vi svelo un segreto, un altro dei tanti segreti per diventare Leonardo da Vinci. Lui sta progettando una trivella, sta studiando la punta, la vedete qua dove c'è il mio mouse, la vedete quella punta che sembra un'arma medievale? Che assomiglia, vi garantisco, a una trivella moderna per fare i buchi tra fuori. Che forma ha una punta di trapano? La vedete lì, gira. Allora che cos'è quell'oggetto? Ve lo faccio vedere qua a fianco, lo vedete che ci sembra una sezione di una trivella. Lo vedete? Eppure lì c'è scritto 100 scale. Uno dei segreti per diventare Leonardo da Vinci è più studio, più cose so, più cose che apparentemente hanno degli significati diversi. Se lo metto insieme ottengo una nuova cosa. Allora nella città di Leonardo da Vinci c'era un problema. È simpaticissimo questa cosa. Io ritengo che Leonardo odiasse, lui lo chiama l'odore del piscio. Non lo sopportava, era un eginista forse. Il problema è che a Milano nel 1500 le fognature non funzionavano come quelle di oggi. E tutte le persone andavano a far pipì negli angoli sulle strade e lui diceva fanno tutti i pipì negli angolini delle scale. Tutti i milanesi facevano la pipì. Secondo lui lo scrive, è proprio scritto. Provate a immaginare, non è che c'erano tutti questi gran gabinetti a Milano nel 1500. E lui diceva come caspita facciamo a risolvere questo problema? Lui mette insieme tutte queste cose e idealizza una cosa importante in altre pagine che qui non vedete. Lui dice per evitare che soprattutto i maschi pisciassero, lo scrive proprio, negli angoli delle scale, allora facciamo le scale a chiocciola. Lui diceva facciamo le scale rotonde e non ci sono più gli angoli. È simpatico, è geniale. Ecco perché ci sono tante scale a chiocciole nei progetti di Leonardo. Lui unisce questo concetto con quel concetto che abbiamo visto prima delle scale che non si incontrano mai e c'è lo stesso problema. Io ho una scala a chiocciola, come faccio? La scala è quella dritta, è facile fare due scale che non si incontrano. E con le scale a chiocciola? Ce n'è una, no? Se io faccio tante scale a chiocciola, addirittura lui scrive 100 in un giochino mentale e le faccio intorno lì, vuol dire che ho 100 scale a chiocciola che girano tutti intorno e se io ho 90 nemici che arrivano, basta che prendo la scala 101 e loro non mi vedranno mai. Questo è per dirvi che tutto c'entra in Leonardo. La guerra, la geometria, l'arte, il congegni, lo studio che lui fa delle macchine militari, tutto rientra. Addirittura anche nella città ideale lo sfruttamento delle acque. Anche questo è meraviglioso. Guardate questo disegno, è famosissimo perché in tutti i musei ho sempre visto questa specie di palazzo con quelle scale, le vedete? La stessa cosa di prima, però qui le scale, quante sono le scale? quante scale ho? Separate e... Bravi, quattro. Ogni lato c'è una scala, più, lui lo scrive, una quinta scala segreta al centro, lo vedete in alto. Ma la cosa bella è che io da giovane ho sempre visto questo modello costruito architettonicamente, fatto con le scalette intorno, messo su un plastico bianco, me lo ricordo quando ero giovane, ma non è così. Le vedete quei piani che ci sono quei quadrati in basso? Leonardo ha inventato l'architettura in trasparenza, vuol dire che quei volumi intorno stanno a significare che intorno c'è un palazzo e le scale stanno dentro, quindi questo è un disegno di un palazzo e al centro del quale palazzo ci sono le scale, lo vedete adesso, l'avete capito, perché ci sono i volumi. Pensate, io ne ho trovate di disinterpretazioni date da questi misunderstanding a centinaio, qui ci sono le armi, sembrano armi, non ve le sto a raccontare perché potreste essere pericolosissimi se vi raccontassi i segreti delle armi di Leonardo da Vinci. C'è un catalogo di armi, potrebbe essere considerato un trattato delle armi, perché vi ricordate che lui contemporaneamente mentre sta facendo la cittadiale sta anche studiando i vari delri militari e altri, questo per esempio è un vascello che viene ispirato dai pirati, abbiamo tempo per questo, no? Sì, mi piace i pirati. Siamo in chiusura, allora andiamo avanti, la prossima puntata delle vascelle dei pirati, questa però vi devo raccontare, l'ultima cosa sulla cittadiale. Avete presente l'idea della cosa che vi ho raccontato dell'igiene? Qui la troviamo al massimo livello, Leonardo dice, io ho questa stalla, questa è una vera stalla, proprio lui la fa in rilievo dalla stalla di Vigevano, guardate com'è fatta, lui ingegnerizza una stalla per rendere igienica e cosa pensa? Dice, se io ho i cavalli sotto, provate a immaginare una stalla al centro di Milano, provate a immaginare cosa vuol dire, la puzza che doveva venire fuori da lì, allora lui dice, no, per guardare l'igiene io cosa faccio? In alto metto il cibo fresco, il cibo fresco viene mandato sempre fresco in questo cunicolo che lo vedete qua, ricoperto da foligine così scivola meglio, arriva davanti ai cavalli che mangiano in modo semplice, il cibo sempre fresco, quando i cavalli hanno finito, hanno fatto tutto quello che devono fare in questi piani inclinati, quindi in realtà pronti per accedere che cosa? Vedete qua che c'è questi scodelle d'acqua, quella è l'acqua che bevono i cavalli, però quella stessa acqua che i cavalli bevono in un canale, viene poi aperto il canale per poter pulire per gravità tutto quanto, quindi viene tutto pulito in automatismo incredibile, cosa succede? L'acqua va qui dentro, l'acqua sporca, va nei canali sotterranei, praticamente questa è l'ingegnerizzazione della stalla igienica per eccellenza, tutti i palazzi che lui fa, che studia, sono da un punto di vista igienico accurati, qui arrivo a una cosa meravigliosa, molti hanno interpretato questo disegno in modo scorretto, perché lo vedete questo, sembra un campo di grano, lo vedete? Questa specie di griglia, in realtà questo che vedete qua, questo è il fiume che si divide in corsi artificiali, lui dice io prendo un fiume gigante, gli faccio i canali artificiali, faccio una griglia di canali tipo New York, è lo stesso concetto, io prendo tutti questi canali artificiali che passano sotto ogni palazzo e tenetevi forte, creo la metropolitana ad acqua di Milano, ovvero un congegno di canali che servivano per passare da un palazzo all'altro in modo sotterraneo utilizzando le barche, al posto del metro le barche, quegli stessi canali potevano essere utilizzati poi per, a seconda del canale che uso di quel tipo, lo potevi fare anche più sotterranei, eccolo qua, lo schema è più importante di tutti, guardate, è lo schema, ve lo faccio vedere poi direttamente su Leonardo, guardate anche le lettere, A, B, C, D, E, F, lui individua ogni tipo di canale per navigare, per i nobili, il cavale d'acqua quello che serve solo per l'acqua potabile, i canali per la sporcizie, i canali che tirano fuori l'acqua piovana quando ha ripulito i palazzi, questa è una cosa simpaticissima, ve la devo far vedere, forse la trovo, eccolo qua, ho visto uno schema simile prima, non mi ricordo chi era, guardate questo palazzo, lui dice, io voglio sfruttare la forza della pioggia che cadendo sui palazzi segue il percorso del palazzo, della facciata, pulisce la facciata, con i piani inclinati della strada, l'acqua va a finire al centro, io qui vedo Parigi, c'è un sistema Parigi uguale, per cui l'acqua, la stessa acqua piovana pulisce tutte le strade e va a finire nei canali poi di scolo, lui aveva pensato a tutto, questa praticamente, questa città ideale, vi faccio vedere l'ultima macchina, la più importante di tutte, che voleva mettere in un palazzo e poi chiuderemo, che è questa qua, io l'ho chiamata la macchina del tempo, perché a un certo punto lui nel manoscritto dice che questa macchina va a tempo ad orologio, questa è una meraviglia tecnica, ve la descrivo e poi chiudiamo, no ho sbagliato la pagina, è questa macchina specie di orologio gigante, allora guardate com'è fatta, questa è una macchina che abbiamo costruito a Milano, è gigante, potete andarla a vedere poi nel nostro museo e funziona in questo modo, cerco di essere semplice, questo è uno dei progetti più complicati di Leonardo, prima di me nessuno aveva capito come funzionava perché le descrizioni sono sparse su una decina di fogli del codice atlantico e qui dentro, Leonardo non dice mai che tipo di macchina è, dice solo l'A va in B, va in C e in F, ha tempo ad orologio e non lo dice mai, forse perché vuole tenere un segreto, perché se fosse riuscito a costruire una macchina del genere avrebbe fatto i soldi, questo è una specie, lo vedete cos'è, un mulino, sembra un mulino, ma Leonardo dice se io devo avere dell'energia nella cittadeale e non ho l'acqua che mi va avanti e indietro, io sfrutto il concetto del mulino che è questo, dove l'acqua la metto all'interno di quelle cassette, al posto dell'acqua metto il mercurio, il mercurio è molto pesante, è una densità enorme, quindi quel sistema meccanico molto complicato permette a queste cassette di essere, ve la semplifico, in verticale a destra, quindi il peso, metà cassetta di mercurio va al suo baricentro, al centro del perno. Quando la macchina ruota, tutte le cassette si orientano in modo diverso, inclinate a 45 gradi, per cui il mercurio si sposta un po' verso l'esterno, scende e va quei 20 centimetri nella macchina che abbiamo costruito noi di due metri, verso destra. Se io ho un peso di questa macchina da una parte spostato a destra, da un'altra parte spostato a sinistra, da una parte avrò più peso teoricamente, quindi questa macchina dovrebbe cominciare a muoversi a tempo ad orologio in quella direzione, andare avanti all'infinito. Leonardo vuole creare una macchina enorme a moto perpetuo per creare energia infinita nella sua città ideale, che è una cosa meravigliosa. Lui dice questa macchina, la facciamo 20 metri alta e la facciamo funzionare. Lui qui dentro incontra difficoltà da un punto di vista ingegneristico, capisce che c'è l'attrito che gli dà un problema, cercherà di risolvere il problema dell'attrito con un modo ingegneristico avanzatissimo, ma capisce quando poi diventerà vecchio che le macchine a moto perpetuo non possono essere costruite. Vi lascio con un'ultima cosa. Intanto mi invito a vedere la nostra mostra, trovate informazioni su www.leonardo3.net oppure segnatevi Leonardo3, per me è la terza dimensione che c'è sempre nella testa di Leonardo da Vinci. Vi lascio con questa immagine folcloristica, in cui quello che dovete vedere è una rappresentazione di un Leonardo pensieroso, lasciamo perdere, il cubo magico che troverete alla mostra e scoprirete cosa c'è nel cubo magico, c'è un segreto. L'ultimo segreto di Leonardo da Vinci è nascosto in quel cubo magico, ma oggi non ve lo posso dire perché altrimenti sviniamo troppi segreti. Quello che dovete guardare è quello che manca da questa immagine. Provate a immaginare un Leonardo da Vinci che sta studiando nel suo studio a Lume di Candela e studia. Alcuni di voi siano molto giovani, vi faccio questo ragionamento per farvi capire cos'è questa roba. Leonardo è diventato Leonardo da Vinci e tutti gli studiosi moriranno e saranno dimenticati, rimarrà Leonardo da Vinci? Forse altro che youtuber o gente famosa, è il più famoso di tutti, non solo l'italiano più famoso in tutto il mondo, ma forse è uno degli uomini più famosi in tutto il mondo. non se lo scorderà mai nessuno. Eppure ha fatto tutto questo lì. Non aveva il computer, non aveva Wikipedia, non aveva i palmari, l'elettricità. Noi oggi stiamo, praticamente i ragazzi credono che solo con la tecnologia si possa diventare famosi o fare qualcosa. Gli youtuber, le altre fesserie che sicuramente oggi si fa il grano, ma domani non si sa perché le tecnologie cambiano con una velocità inumana, attenzione, inumana. Vuol dire che quello che imparate oggi non è applicabile fra dieci anni. Quindi forse è inutile studiare come fare il video su YouTube, che tanto fra dieci anni sarà tutto diverso. Io vi invito, guardando questa immagine, un esperimento per vedere chi tra di voi diventerà Leonardo da Vinci. è difficilissimo, soprattutto per gli insegnanti. Un esperimento è questo. Provate a stare 24 ore senza tecnologia, come faceva Leonardo, senza elettricità, non dovete usare un computer, un palmare, dovete prendere un foglio di carta. Uscire dove volete voi, sulla natura, in città. Provate a immaginare cosa vuol dire uscire fuori e osservare la natura col tempo lento, in un'albera vita, o vuole trasformare, riguardare dall'osservare, essere costretti a rimanere per dieci minuti a vedere come funziona una foglia che cade dall'albero. Le abbiamo viste tutte quelle foglioline che cadono dall'albero, avete presente? Adesso fra poco inverno ne vedete tante. Leonardo cosa faceva? Non è che andava via e se ne andava a fare col suo Facebook o like, 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 inutile. No, si è fermato, ha guardato quell'oggetto che cadeva e ha cercato di capire come quell'oggetto cadendo funzionasse. Quell'oggetto è diventato poi il famoso elicottero di Leonardo da Vinci, che in realtà è una macchina, si chiama vita aerea, che serviva per capire che se io mi posso avvitare nell'area al contrario, quindi invece di scendere salgo con una molla, allora posso creare una macchina che va in alto e non in basso, una vita aerea e allora vuol dire che l'area esiste e se l'area esiste siamo nel 1500, allora io posso usarla per appoggiarci sopra a una delle macchine più incredibili, Leonardo, che è la macchina volante che troverete a Milano ricostruita e quindi nasce lì tutto il filone sulle macchine volanti di Leonardo da Vinci incredibili. Tutto questo nasce dall'osservazione della natura, quindi vi sfido, non ci riuscirete mai, a rinunciare al vostro cellulare, computer o whatsapp o quello che volete per 24 ore, provare l'ebrezza di essere un Leonardo da Vinci con un taccuino e una matita vuota e andare in giro ad osservare le cose, come forse non avete fatto mai. Grazie a tutti.